Ciao a tutti, è pressoché impossibile o perlomeno molto difficile imparare dalla nostra storia, dal nostro passato, dal nostro passato ancestrale, da millenni di esperienze passate, se ci siamo completamente dimenticati delle nostre vite passate e del nostro percorso d'anima. Ed è anche per questo che parte del modo in cui la nostra specie viene mantenuta in uno stato di schiavitù e di ignoranza è attraverso la traumatizzazione di questo processo, nello specifico la traumatizzazione del processo di nascita e di morte. Vi spiego. Generalmente se parliamo di morte o di nascita che cosa vi viene in mente? Vi viene in mente un momento pacifico, sereno, armonioso, un momento comunitario, un momento scelto liberamente, un momento che fluisce con i ritmi naturali. Oppure vi viene in mente qualcosa di frenetico, qualcosa di accelerato, qualcosa di artificiale, magari in un ambiente artificiale come un ospedale, un ambiente pieno di catastrofi, cose pericolose che accadono, malattie. Soprattutto quando pensiamo alla morte. Solitamente pensiamo ad un processo che avviene dopo una grandissima sofferenza o perché è successo qualcosa di catastrofico ad una persona, una grave malattia, un incidente. Qualcosa che le viene imposto contro la sua volontà, come se la morte fosse qualcosa che succede così al di fuori del controllo della persona. E se vi dicessi che tutto questo è falso, che tutto questo è un mito che è stato costruito per mantenere fuori dal nostro controllo il processo di nascita e di morte della nostra anima, di modo che non possiamo sceglierlo liberamente. Ci sono tante culture aborigene spirituali che capiscono molto meglio questi principi naturali universali della nascita, della morte e della rincarnazione e che quindi celebrano questi momenti in maniera estremamente diversa dalla nostra. Addirittura ad esempio danzando e festeggiando quando una persona fa il suo passaggio dal mondo fisico al mondo spirituale. Oppure scegliendo con addirittura con incastri astrologici e con incastri ancestrali la nascita specifica di una certa persona, addirittura richiamando una persona di una reincarnazione passata volutamente. È un processo molto diverso che fluisce con i principi naturali, non è un processo catastrofico, accidentale, caotico, imprevedibile, che avviene sotto grandi pressioni e costrizioni, sotto interventi medici estremi. È tutt'altro. Molti monaci buddhisti avanzati scelgono, hanno la capacità di scegliere volutamente quando fare quel passaggio e lo fanno attraverso uno stato meditativo, stati meditativi che oggi sono insegnati anche in occidente, che servono appunto per fare questo passaggio in maniera voluta e naturale. e soprattutto ricordandosi, mantenendo tutte le proprie memorie, di modo che sia agevolato poi il passaggio alla vita successiva, il passaggio più conscio e cosciente alla vita successiva. C'è un altro modo meno ovvio ma altrettanto importante e significativo con cui viene sabotato questo processo, ce ne sono ovviamente molti ma qui ve ne descrivo alcuni, ed è il sabotaggio del sonno. Il sonno infatti è una sorta di finestra che noi abbiamo all'altro mondo, alle altre dimensioni. È come una piccola morte, una semi morte, una morte parziale se vogliamo, dove il nostro corpo prende una pausa, prende un pochino di tempo mentre la nostra anima ha il tempo di avere a che fare con le altre dimensioni, per ricalibrare vari processi. Anche il sabotaggio del sonno quindi è fondamentale per non permetterci di rimanere consci, coscienti e lucidi durante questi processi, per capire che cosa sta succedendo dall'altra parte con la nostra anima, che cosa sta facendo, che cosa sta decidendo e soprattutto anche per ricordarci, per avere controllo su questi processi sia durante il sonno ma anche e soprattutto poi durante la scelta della nostra morte. La scienza più all'avanguardia che studia questi processi viene studiato come la capacità di rimanere consci e lucidi durante i sogni è fondamentale nel riuscire a fare lo stesso anche nella transizione da vita e morte, o meglio da questa dimensione all'altra dimensione non fisica. Poi ci sono tanti altri modi in cui questo viene sabotato ad esempio la corruzione nella religione che ha tenuto nascosta di proposito su queste verità spirituali alle persone, attraverso narrative false di paradiso, inferni, purgatori e altri costrutti di questo tipo oppure anche il fatto che gli ambienti in cui viviamo sono ambienti che non ci permettono di accedere alla nostra anima, sono ambienti che ci mantengono disconnessi dalla nostra anima anche se gli stessi cibi che mangiamo, veleni che respiriamo nell'aria, che beviamo nell'acqua fanno sì da disconnetterci da queste nostre capacità. Quindi vi sono un sacco di sistemi che sabotano questo processo e che non ci permettono non solo di rimanere connessi con i nostri aspetti e su altre dimensioni durante la nostra vita, per meglio ascoltarli, meglio essere guidati da essi ma poi anche per rendere traumatici i passaggi dalla vita alla morte, ovvero nella rincarnazione fisica alla disincarnazione, di modo che questi passaggi vengono fatti senza il nostro controllo bensì sotto il controllo di altre forze. Per avere un'analogia di questo basti pensare agli allevamenti intensivi a come vengono nati e uccisi gli animali in questi posti, come vengono resi schiavi in questi lager, in queste prigioni ovviamente la nascita, sia la nascita che la morte, sono processi controllati totalmente dagli umani che tiranni che controllano questi animali, che uccidono quindi questi animali secondo la loro volontà portandoli ad un matatoio, ad un macello, che li fanno nascere forzatamente stuprando le femmine degli animali forzandole a partorire figli per poi rubare questi figli per farli crescere in gabbie eccetera eccetera tutto questo processo ovviamente controlla la vita dell'animale dall'inizio alla fine anche quello che l'animale mangia, dove vive eccetera e tutto questo di nuovo è un altro sistema per disconnettere completamente l'animale dal suo potere e soprattutto dal suo potere di incarnarsi o disincarnarsi liberamente, di scegliere se vivere o non vivere di scegliere quando morire e quando nascere, tutto questo viene tolto dal potere dell'animale in un modo simile il nostro sistema fa questo attualmente con gli umani sebbene in modo meno evidente, però la nostra capacità di rincarnarci è venuta sabotata gravemente proprio per non permetterci di ricordarci le nostre vite passate, di essere guidati dal nostro sé più alto perché tutto questo? Perché chiaramente per poter seguire ciecamente delle autorità che non sono vere che non sono reali autorità, che sono in realtà persone gravemente traumatizzate, molto stupide, ignoranti molto narcisisti o psicopatiche, per poter scegliere di cedere il nostro potere a individui così incapaci dobbiamo innanzitutto credere noi stessi di essere totalmente incapaci, di essere totalmente privi di una nostra guida privi di una nostra autorità e quindi dobbiamo essere disconnessi appunto dalle nostre parti più alti che sono la nostra vera guida, la nostra vera autorità Nello stesso modo in cui se un animale di un allevamento intensivo venisse liberato dalla sua gabbia e potesse scegliere come vivere, con molta probabilità non sceglierebbe di essere ammazzato in un matatoio o di fare figli per essere uccisi o sfruttati nel mal allevamento con molta probabilità farebbe scelte diverse seguirebbe la sua volontà, il suo intuito e non quelli costretti dagli psicopatici narcisisti che sfruttano questi animali nella stessa maniera quindi anche noi per poter essere sfruttati dobbiamo innanzitutto essere deprivati di ogni nostro potere dobbiamo essere deprivati di ogni nostra vera autorità per poterlo accedere a qualcuno che di autorità non ne ha nessuna con questo è tutto, ci vediamo al prossimo video intanto vi auguro una bellissima giornata ciao ciao